In questo 25 novembre, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne, c'è una risposta alle tante, alle troppe donne che ancora sono vittime di violenza. E la risposta è che questo Paese, questo Governo, ha deciso di investire in modo stabile, strutturale, in un percorso per aiutarle a ritrovare libertà, autonomia, per ricostruire una vita fuori dalla violenza. Lo facciamo con un piano strategico nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne, che diventa finalmente stabile, così come stabili diventano le risorse, i finanziamenti, alla rete dei centri antiviolenza, delle case rifugio. Uscire dalla violenza è sempre possibile, ritrovare la propria libertà per sé e per i propri figli è sempre possibile. Per questo chiama il 1522, oppure scarica l'app 1522. È un percorso di libertà nel quale non sarai sola, libera puoi.